Massimo Grassi, Sales Engineer di Panasonic Italia, mi occupo dei sistemi di sicurezza e in particolar modo della videosorveglianza. Oggi qua esponiamo un'ampia soluzione di prodotti che vanno dalle telecamere, che sono dislocate in tutte le aree della demo room, a seconda della particolarità dell'area stessa, scelte appositamente per la tipologia di aria che abbiamo voluto rappresentare. Questa è la soluzione che noi invece diamo per quella che è la control room di un potenziale sistema di videocontrollo e videosorveglianza, qui abbiamo la parte di software per la gestione dell'immagine con le mappe grafiche, con il pc portatile, la parte di gestione invece delle telecamere con la pastiera che permette all'operatore di selezionare le telecamere sul monitor, se sono telecamere brandeggiate, di poterle controllare, muovere per andare nel dettaglio dell'inquadatura, nel seguire un potenziale malfattore, la parte centrale di visione in multiscreen collegate ai nostri sistemi di videoregistrazione digitale e il terzo monitor, quello di destra, dove è rappresentata quella che è la novità del momento, che è la telecamera che visualizza le immagini a 360 gradi e poi le stesse ricostruisce a seconda di quello che il cliente richiede dal punto di vista dell'area da inquadrare. Tutto è gestito da un'unica piattaforma software di gestione che integra oltre che le nostre telecamere e i nostri sistemi su una rete IP, quindi una rete LAN in IP, anche altri sistemi come possono essere i controllo accessi, come possono essere sistemi antincendio o software di gestione e di elevazione.